Perché siamo in Parigi, mi è piaciuto perché tu fai la natura, ma hai una particolarità che realizzo soggetti, sono unicamente con le cianiere lampo, le zip. Sono riconosciuta per le barriere coralline, che sono realizzate anche tutte con le jeep, i bottoni, i rivetti, i tiretti e alcune si hanno... Ti piace anche il colore? Moltissimo, le realizzo tutte colorate oppure sono anche in bianco e nero per dare la possibilità ai clienti che magari hanno le case un po' più moderne. E anche con i fiori, le anemoni, l'acqua, abbiamo le libellule, le farfalle... E dimmi una cosa, per esempio, quanto tempo ti prende per fare questo? Allora, questo è il mio lavoro principale, quanto tempo... Sì, per fare, per esempio, questo... Di tempo... Sì, quanto tempo ti prende? Dipende anche una settimana. Ah, una settimana? Sì, sì, sì. E come hai per avere tutto questo? Allora, io sono... E perché? Sono fornitrice ufficiale di alcune aziende di zip, finisco loro opere d'arte e... Sì, sì, perché... Realizzo per loro delle opere d'arte anche per arrivare i loro uffici, di gadget per i loro dipendenti, opere delle loro fiere, sia di aziende produttrici italiane, ma anche estere. E quindi, collaborando con loro, ho a disposizione del materiale, che poi io realizzo a mia volta, e creo opere d'arte mie, di mia... Creatività, di mia ispirazione. Come per esempio anche i ritratti, dove realizzi i capelli. Questa cosa è voluta, di far scendere i capelli al di fuori del quadro, perché per me l'arte continua anche al di fuori, no? È certo. E quindi va al di là dei... Sono la che impone... Tu lavori molto con la natura. Sì, molto. E quello a me mi piace molto... La natura e i colori. Sì, e anche questa cosa dei salici piangenti mi piace moltissimo, perché dà proprio l'idea, insomma, sia del capello, ma anche della natura. Sì, molto di... ecco. Sì, colorata soprattutto. Molto bello. Grazie. Felicitazione, veramente mi è piaciuto molto. Grazie mille. Grazie a te. Ciao. Ciao.